Tutto il mondo e tutti noi abbiamo bisogno della misericordia divina, che sperimentiamo in modo particolare nel sacramento della penitenza e riconciliazione. La confessione è il luogo in cui si riceve in dono il perdono e la misericordia di Dio, che ha iniziato la trasformazione di ciascuno di noi e la riforma della vita della Chiesa. Con queste parole Papa Francesco ha salutato nella Basilica di San Pietro gli oltre 2000 pellegrini dei Paesi Bassi, protagonisti della giornata olandese del Giubileo della Misericordia. Al termine della Messa, il Papa ha incoraggiato i pellegrini a lasciarsi plasmare dalla misericordia di Dio per divenire a loro volta strumenti di misericordia, per testimoniare il suo amore nella vita di tutti i giorni. Gli uomini e le donne di oggi hanno sette di Dio, hanno sette della sua bontà e del suo amore. E anche voi, come canali della misericordia, potete aiutare a placare questa sette. Potete aiutare tante persone a riscoprire Cristo, Salvatore e Redentore dell'umanità. Come disceppoli, missionari di Gesù, potete irrigare la società con l'annunzio del Vangelo e con la carità, soprattutto verso i più bisognosi e le persone abbandonati a se stessi.